Salve! Un saluto da Robert Patrick, mi chiamo di centra del P, posizione Andrea Pirlo Lei è Andrea Parte Pirlo da fuori! Sul fondo! Sfiora il gol a Juventus! Con Andrea Pirlo, rivediamo la posizione diciamo quasi perfetta di Andrea Pirlo C'è un po' di movimento, va Pirlo con il destro! La palla sul fondo di niente Un saluto da Robert Patrick, mi chiamo di centra del P Pirlo quasi perfetto per la palla che esce di pochissimo